In Valtellina nasce un nuovo soggetto per favorire il coordinamento delle attività di orientamento scolastico e di promozione dell'alternanza scuola-lavoro e più in generale come fine ultimo di sviluppo del rapporto tra mondo del lavoro e mondo dell'istruzione. Si chiama Network Scuola Lavoro a promuoverlo la Camera di Commercio di Sondrio, ente preposto per legge ad accreditare la partecipazione delle aziende all'alternanza e a favorire il contatto tra le aziende stesse e la scuola, non solo con la tenuta del registro dell'alternanza, ma anche proponendosi come facilitatore di accordi con altri enti. Il Network ha proprio l'obiettivo di ampliare la partecipazione delle aziende e delle scuole a questa esperienza di innegabile beneficio formativo per i ragazzi e le imprese stesse, dando visibilità e diffusione ai risultati ottenuti. Fondamentale è anche la possibilità di fare esperienze innovative, orientando i giovani migliori verso le opportunità occupazionali più avanzate sul territorio. Inoltre lo scambio di informazioni sulle attività realizzate o promosse da scuole, imprese e loro associazioni rende possibili le sinergie ed evita sovrapposizioni o duplicazioni. Il Network ha anche l'obiettivo di far sì che questa collaborazione tra scuole e mondo del lavoro faciliti un migliore orientamento dei giovani, permettendo una scelta più consapevole della prosecuzione del percorso di studio o di inserimento lavorativo e consentendo, quando necessario, una tempestiva ed efficace correzione delle scelte stesse. L'alternanza scuola-lavoro poi prepara i ragazzi alla ricerca attiva di un'occupazione al termine degli studi, promuove la loro partecipazione alle attività produttive che più caratterizzano il sistema economico territoriale, anche in prospettiva di nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo. Il Network Scuola-Lavoro trova l'adesione di provincia e ufficio scolastico provinciale in primis, ma anche di associazioni di categoria, sindacati, enti locali ed amministrazioni pubbliche, istituti superiori e scuole di formazione professionale, ordini professionali. La Camera di Commercio di Sondrio ha già individuato un primo nucleo di iniziative da attivare nei prossimi mesi, come i progetti Un'impresa Talent Scout e i laboratori aziendali. La cura del capitale umano e lo sviluppo del rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro costituiscono una priorità strategica per la Camera di Commercio, commenta la Presidente Loretta Credaro. Auspico che le adesioni al Network si sviluppino ulteriormente, così da coinvolgere nel modo più ampio possibile il sistema scolastico provinciale e gli enti territoriali.